In un anno veramente complicato, soprattutto sotto la parte artistica, è stato veramente complesso trovare degli artisti a prezzi che rientrassero nell'etica anche del Natale Terramano perché per noi è importante offrire eventi culturali in città ma far sì che sia accessibile per tutti con un biglietto molto basso nel caso del concerto di Coez. È una settima edizione dove cerchiamo di mantenere l'identità del Natale Terramano con questi tre concerti quindi il Pigro, il Capodanno con DJ Mace e poi il primo con Coez ma nel quale continuiamo a parlare di identità nella città di Terramo perché tutto è nato sulla identità su queste luminarie che appartengono esclusivamente alla città di Terramo perciò parliamo di luci di Terramo perché queste luminarie sono visibili solo nella nostra città perché sono costruite ad hoc per la nostra città con un lavoro enorme da parte anche dei progettisti perché i cantieri che oggi imperversano sulla città di Terramo che ci danno anche un senso di rinascita, di speranza anche per i prossimi anni comunque ci hanno obbligato anche a lavorare a terra ad ampliare anche il mercatino sull'area di Piazza Martini rinunciando la pista e facendo un lavoro anche appunto a terra con luminarie da terra che sono poi anche dei punti molto interessanti per scattarsi selfie eccetera quindi per creare interazioni online Tanti eventi anche per i bambini mi viene in mente appunto la casa di Babbo Natale e anche la conclusione del cartellone con la classica Befana dei Vigili del Fuoco Sì esatto, c'è anche Gioego Aspettando la Befana che sono tutti giochi per bambini il domenica 5 gennaio c'è anche il teatro per i ragazzi che l'anno scorso fece registrare il sold out grazie al lavoro straordinario di ACS quindi c'è un'attenzione a tutte le fasce d'età questo anche contraddistingue il Natale perché è un evento che noi cerchiamo di offrire a tutta la nostra comunità e soprattutto in qualche modo ci spinge fuori cercando di confermare anche quest'anno di essere uno degli eventi più importanti d'Abruzzo e anche del centro Italia perché non è scontato insomma avere artisti di questo calibro nel periodo di Natalizio